Le infrastrutture, i trasporti sono l'elemento nodale, indispensabile per lo sviluppo, per la crescita di un territorio. Ne parliamo con il dottor Patrizio Mazza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista La Puglia domani, fitto presidente. Voi pensate a quale potenzialità ci sia questa provincia, ma che ovviamente fa parte della regione Puglia, si trova in un incrocio, perché praticamente l'incrocio è un ponte di connessione fra la Calabria, quindi per una certa viabilità che arriva dalla Calabria e il resto dell'Italia. Poi abbiamo un porto, un porto meraviglioso, ieri passavo di lì, c'erano solo due navi che dovevano scaricare qualcosa all'Ilva, è un peccato, è qualcosa che deve essere in qualche modo valorizzato. E c'è un aeroporto, cosa di più ci deve essere se non mettere in una situazione di connessione questi tre fattori e cercare di valorizzarli nella maniera giusta, fare arrivare merci che da qui partono, creare una interconnessione con gli altri siti della regione per poter far sì che le merci viaggino velocemente. E questo vale a dire anche per il canale turistico. Abbiamo un aeroporto che va valorizzato. Io credo che fu fitto a portare la legna all'aeroporto di Grottaglia, se ricordo bene, e credo che fitto abbia ben in animo questa situazione e il pensiero di poter far sviluppare maggiormente quest'area.